Si è tenuto presso l'assessorato ai trasporti e dalla mobilità sostenibile della regione Puglia il tavolo di confronto sui collegamenti ferroviari nella città di Taranto organizzato dall'assessore regionale Deborah Ciliento su richiesta di Gianni Liviano consigliere comunale di Taranto e promotore del comitato spontaneo di cittadini tarantini che nei mesi scorsi hanno fatto sentire la propria voce sui disagi emersi nel trasporto ferroviario a Taranto c'è stato dunque un confronto diretto con la regione Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana presenti lo stesso Oliviano, l'onorevole Ubaldo Pagano, i consiglieri regionali Enzo Di Gregorio e Massimiliano Stellato il presidente del consiglio comunale di Taranto Piero Bitetti, Carmelo Sasso della Will Trasporti Francesco Zotti della CGL Trasporti e Fausto Rossetti della CISL Trasporti ma soprattutto presenti i rappresentanti regionali e nazionali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia la buona notizia è che il frecciarossa Taranto-Roma delle 6 e 10 riprenderà servizio dal 16 settembre mentre il collegamento inverso sarà attivo già dal 15 settembre con partenza da Roma alle 19 e arrivo alle 23.42 a Taranto, biglietti già acquistabili sui canali di vendita di Trenitalia le interruzioni degli scorsi mesi sarebbero state dovute agli importanti lavori infrastrutturali che Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando sulla linea Battipaglia Potenza Taranto per l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della linea